Estra vince nella categoria performance operative il premio Top Utility promosso da Altesis con Utilitalia, riservato alle prime 100 aziende che si sono contraddistinte nei servizi di pubblica utilità. Sono 153 le scuole con i 170 docenti coinvolti che aderiscono nelle marche alla piattaforma digitale di Energicamente, il progetto di didattica ambientale promosso da Estra e Legambiente. Altri sei occhi elettronici installati da Estracom portano a 146 le telecamere del sistema di videosorveglianza voluto dal comune di Prato per controllare 24 ore su 24 le aree sensibili della città toscana. Estra apre una linea di credito di 50 milioni con Intesa San Paolo e Banca Imi. La novità è nel contratto, il tasso di interesse è tanto più favorevole quanto più Estrac entrerà nei suoi investimenti obiettivi ambientali.